Ben ritrovati nel nostro diciannovesimo appuntamento con Bergamo Canestro, questo magazine settimanale con cui cerchiamo di dare uno sguardo a quella che è la realtà della palla a spicchi nella nostra provincia e non solo, vediamo subito introdurre i nostri due graditissimi ospiti in studio di Erni e sono ad un ordine di età, quindi Luca Gamba, non diciamo, sì possiamo dirlo, voglio tanto, un giovane Luca Gamba, un giovane Luca Gamba, eri giovane quando finivo io, e poi Jacopo Borra invece della Remer, abbiamo quindi un po' quelle che sono le minors, un po' quella che è la vetrina della nostra palla a canestro, purtroppo le nostre quattro squadre che facciano nei campionati nazionali, scusate che c'era stato un momento con la regia, abbiamo detto risultati negativi, purtroppo domenica la Remer è andata a perdere la Legnano, una brutta sconfitta, possiamo dirlo senza tema di smentita, ci avevano un po' illuso i Trevigliesi nel primo quarto andando avanti, poi però purtroppo si è spenta la luce e nel secondo tempo è stato forse una delle peggiori prove che abbiamo visto quest'anno della formazione allenata da Adriano Bertemati, ieri sera poi invece è arrivata la sconfitta casalienca anche per la Bergamo Basket 2014, superata in casa da Iesi, uno Iesi che ha visto Icebrook, la guardia del Siena College New York, mettere assieme 47 punti, in tutta scioltezza possiamo dire che ha fatto 18 su 27 al tiro, che non è proprio una performance di tutti i giorni, giusto? L'allenamento al tiro, va bene, l'allenamento da soli, è anche di più che discreta, giusto? È già lì buona, ed Iesi purtroppo è arrivata l'altra sconfitta, nel quanto riguarda invece le altre due squadre nazionali, è arrivata invece la sconfitta per Costa Volpino e anche la sconfitta per la Fassigru e del Weiss Albino, soprattutto molto grave, perché è arrivata in un confronto diretto come quello con Bolzano. Torniamo però subito indietro, riavvolgiamo il nastro come si suol dire, parliamo della Reimer-Blobasker 1971-Treviglio, la sconfitta con Legnano, Jacopo, l'impressione che hai avuto è stata la stessa che ho avuto io? Beh, abbiamo iniziato facendo canestro, poi loro erano tutti chiusi in area e noi abbiamo smesso completamente di fare il canestro, nella seconda frazione abbiamo proprio segnato 17 punti mi sembra. Un po' pochini per la 2. E loro si sono chiusi a fortino in area, da fuori non si segnava mai e con Mosley che fa da ombrello è diventata dura. Un passo indietro possiamo dire, rispetto a pochi giorni prima, quando durante l'infrasettimanale si era battuto, se non ricordo male Rieti, con una prova convincente. Sì, un passo indietro, c'è anche da dire che le squadre secondo me sono differenti sul piano tecnico, anche di talento, però un passo indietro. Non era facile, ci si poteva provare e non ci si è riusciti. La classifica, adesso prego la regia per cortesia di rimetterla in onda, è ancora più compattata e a grado 16 punti, che dall'altra parte vorrebbero dire una situazione abbastanza, non dico tranquilla, ma in lotta addirittura per poter andare ancora ai play-off, da questa parte non bastano per non essere i terzi ultimi. Non male. Un po' strana diciamo, no? Sì, sì. Tolto diciamo Casale, che obiettivamente è quella che fino adesso ha fatto vedere di avere un impatto tecnico e fisico superiore alle altre, sei d'accordo? Sì, siamo in zona play-out, siamo a 4 punti dai play-off comunque, le partite vinte. Certo, noi non dobbiamo assolutamente pensare a questo, perché siamo comunque in piena zona play-out, quindi dobbiamo prima di tutto tirarci fuori da salvarci, insomma, assolutamente. Una persona che ben conosciamo tutti, Alberto Matteoli, continua a sostenere che un po' il perno a cui è girata negativamente la stagione è stato un po' il tuo infortuno, Jacopo. Perché attorno alla coppiata di centri italiani Borra-Rossi era stato un po' costruito un po' tutto il resto della squadra. Purtroppo non è andata così, ti sei dovuto fermare ancora, la domanda adesso è decita, come stai? La domanda è più che lecita, ho avuto problemi dopo la prima operazione, sentivo di non stare bene, infatti poi era vero, non stavo bene, non si era risolto il problema. Non era una fisima, come si dice. Non era una mia fissa. Adesso ho fatto una seconda operazione al menisco, è riuscita, sto facendo la riabilitazione, sono oggi a 16 giorni dall'intervento, cammino già bene, posso già iniziare a fare... Possiamo garantito, l'abbiamo visto. L'unico problema è che il chirurgo Rocchi che mi ha operato mi ha detto che avrei dovuto aspettare almeno una quarantina, 45 giorni a rientro in campo, quindi oggi manca un mese. Un mesetto ancora per poter rientrare. Un mesetto, sì, per poter riniziare ad allenarmi con la squadra. Poi ovviamente per me sarà agosto. Sarà un po' ricominciare, possiamo dirlo, per la terza volta. Sì, non è stata una stagione fortunata, più che altro perché era veramente solo un menisco, non era un problema grave. Purtroppo è andata a questa maniera. Luca, invece, la tua impressione su quella che è la stagione di Treviglio? Se abiti a Treviglio, hai a che fare con Treviglio, sei stato un simbolo di Treviglio, hai a che fare con i tifosi tutti i giorni, credo. Vabbè, sì. Giusto? E quindi puoi essere un po' tu anche il termometro di quella che è. Ma quello che io l'ho vista in casa, non l'ho mai visti fuori, dove effettivamente magari fanno un po' più fatica, ma penso sia più una questione di testa, perché comunque in casa sei più tranquillo, sai che hai determinati punti di riferimento, ma anche emotivo, e in un certo modo, in qualche modo, riesci sempre a tirare fuori il 110%, cosa che le squadre di Vertemati hanno sempre fatto, perché è giusto ricordarlo, non è che quest'anno sono nella parte bassa della classifica, perché vanno in palestra e si guardano in faccia e giocano a carte, questi qui sono quelli che forse si fanno... No, quello nessuno, ma il mazzo di tutti in A2. Diciamo che obiettivamente c'è stato, l'aver cambiato l'assetto completamente rispetto all'anno scorso è stata una cosa obiettivamente. Ha cambiato parecchio, poi. Obiettivamente importante. Come ha detto Matteoli, è colpa di Jacopo sostanzialmente. Sostanzialmente, arriviamo al dunque, quella è la cosa, però obiettivamente bisogna dire... Ha costretto a cambiare in corso, soprattutto... Era già un assetto che era partito non partito... Probabilmente fosse stata una cosa chiara da subito, la società avrebbe preso una decisione in un verso o in un altro, sembrando che potesse rientrare un giorno con l'altro. Sì, sì, per un po' di tempo si è andata avanti che era una cosa... Il tuo rientro non era una questione a lungo termine, ma sembrava una cosa imminente. Dopo invece si è trascinata e, secondo me, va anche assommato al fatto di aver preso due straniere che erano completamente diversi rispetto anche a quelli che erano quelli dell'anno scorso. Però sai, prendi Vosquil, che qua in Italia da qualche anno ed è sempre stata una sentenza, in determinati gruppi, in determinate squadre, con altri stranieri accanto. Tu mi insegni, Luca, che un tiratore puro, come Vosquil, dipende tantissimo dai giocatori cattori. Eh sì, poi chi vede le partite e capisce un attimo di Palacanestro sa che questo qui ogni volta deve liberarsi da almeno tre giocatori, riuscire a tirare. Lo marcano, se arriva a metà campo, lo anticipano fino a metà campo. È facile giocare così. Esatto, quindi non era facile. Poi a un certo punto c'era la coperta corta, perché sotto canestro è rimasto scoperto. Si era passati volgarmente dai 20 minuti quasi per Jacopo e per Lele Rossi, si è passati invece ad avere soltanto Rossi, che è un anno in più, ma come è logico per tutti, non si può pensare che ha fatto una prima parte di Stavone, comunque non si può dire nulla, però obiettivamente troppe cose poi non hanno più quadrato. Sicuramente hanno preso il nuovo straniero, che a me piace molto come gioco, ma come presenza in campo e sentire ragazzi anche all'interno del gruppo, che sai, quando le annate vanno bene è facile essere simpatici, va bene tutto come si dice. Quando non va bene avere qualcuno che ti fa gruppo, vale molto di più. Come si dice, va bene anche qualsiasi tipo di giocatore tu abbia in campo. Come vedi il prosieguo adesso? L'obiettivo dovrebbe essere quello di cercare di trovare la migliore posizione possibile, ma soprattutto sfruttare al massimo l'occasione in casa. Sì, bisognerebbe appunto far ballare le mura amiche, io sono d'accordo appunto perché l'arrivo di Toni ha cambiato completamente la squadra. Ad Alan anche lui serve un giocatore interno importante che potevo essere io, adesso sarà Toni, per essere più libero perché se no veramente gli stanno tutti addosso, infatti anche le sue prestazioni sono molto migliorate dall'arrivo di Toni. La squadra è completamente diversa, gioca in maniera completamente diversa, si allena in maniera completamente diversa, ha dato una grande energia. C'è da dire che ultimamente stiamo facendo meglio di prima. Ovviamente siamo ancora comunque un po' un cantiere perché molte cose vanno sistemate e aggiustate. spero di poter rientrare da non a mano, ma per ora ancora un mesetto, 4-5 partite se la devono vedere da soli. Comunque li vedo molto più convinti e fiduciosi di prima, dopo questo cambio. Stiamo un po' girando, poi quando comincio a parlare con gli ospiti mi viene sempre a chiedere anche un po' su quello che erano postati i loro appartenenti. Jaco, che è lo stranello che hai avuto più forte in squadra? Quello che non è che a te Luca. Allora, avevo in squadra Mike James a Omenia, vabbè senza parlare di quando ero piccolino e giocavo in fortitudo, ma non ero in squadra ufficialmente, lui è andato in NBA e tutto, si vedeva che era molto forte, però non giocava insieme agli altri, invece a Roseto ho avuto, per carità Brian Allen faceva una marea di punti, però Kyle Weaver secondo me era il più talentuoso di tutti, giocava col sorriso, sembrava, mancava un po' di furia agonistica, ma come talento grezzo è il migliore che ho mai visto. Invece sculpare la rivolta di Luca, non ti preoccupare, non ti, non mi sfuggi, tu hai fatto settore giovanile, non ricordo male, avevi cominciato a Moncalieri, poi fortitudo, hai avuto da fare anche con, hai fatto finale nazionali, nazionali, io faccio sempre la domanda, qual è un giocatore di cui non pensavi arrivasse a un certo livello, invece è arrivato, invece chi aveva invece la convinzione che potesse spaccare il mondo, invece poi non ce l'ha fatta? Beh, ti dico la verità, della mia età di un anno più giovane, ci sono tanti che non pensavo arrivassero dove sono arrivati, alcuni sono amici quindi mi spiace anche dirlo, però ad esempio Dada Pascolo, sinceramente sapevo, faceva sempre bene a livello giovanile, quindi sapevo avrebbe fatto bene ma mai come sto facendo, o anche lo stesso Baldi Rossi, obiettivamente non è un talento atletico. Lo stesso Baldi Rossi uguale, aveva sempre fisicamente, non era una bestia, però tecnicamente come testa sta facendo vedere delle cose incredibili, invece ci sono molti talenti infiniti come quello con cui giochiamo domenica, Rullo, che secondo me era ancora al 60% del suo potenziale, spero che un giorno possa farlo vedere tutto perché è un piacere vedertelo giocare. Praticamente a livello giovanile lui ha un cac. Era uno di quelli che tutti scommettevamo che sarebbe arrivato. Ancora adesso se non fosse discontinuo non sarebbe giocare contro di noi. E andiamo adesso a Luca. Vabbè, stranieri ve ne ha avuto qualcuno, anche perché ha avuto gli anni in cui si cominciava a poter prendere tutto quello che volevi e allora nel dubbio prendevano tutto quello che si poteva, sbagliandoli spesso. Vabbè ha avuto Iuzzolino che sicuramente da vedere tanta roba. Il primo Travis Mace a Pistoia, prima che si facesse male, che era a livello di Harry William, più o meno. Chiaramente Harry William secondo me è il miglior straniero che ho visto contro cui ho giocato. Io me lo ricordo, prima Benetton, poi Verona. Sì, esatto. No, prima Verona, poi Benetton, poi anche Roma e Napoli. Comunque è un giocatorino miga da... Giocatore clamoroso. Miga da ridere. Però come compagno di squadra, cioè, a cui ho visto fare le cose più incredibili, Mario Buoni. C'è giocato poco assieme perché a Piacenza era già vecchio, ma così non l'ho mai visto, ma veramente. E lo apprezzi solo da compagno di squadra, secondo me, perché gli vedi fare tutte le cose che in partita non ti accorgi, d'avversario soprattutto. Invece a livello giovanile ti ricordi qualcuno? A livello giovanile... Non so che non ti saprei dire. No, bene o male tutti hanno fatto quello che potevano, che probabilmente non mi aspettavo facesse così bene ed è diventato un signo, un campione, perché un campione è Soragna. Ci giocavamo contro... Si era un anno più giovane. No, la mia stessa età. La stessa è il 75. Sì, sì. Giocava a Cremona... Non ricordo di... Nulla di che. Il Mantovano, se non ricordo male, è andato a Cremona. Nulla di che. Abbiamo fatto anche qualcosa in nazionale assieme, ma sì, giocatore da giocare in A2. Si è diventato uno che fa la differenza in Eurolega. Signor giocatore. Veramente bravo. Siamo in chiusura, così, della nostra prima parte della trasmissione. Diamo quindi la linea alla regia per la prima parte della pausa. Torniamo in studio e vediamo l'altra faccia, come vuol dire, della A2 maschile della provincia di Bergamo. Parliamo della BB14. Ieri sera la gara interna con Iesi. Si sperava che il doppio appuntamento casalingo dei giallonieri cittadini potesse portare alla seconda vittoria consecutiva. Purtroppo nel secondo quarto è arrivata la prestazione di Esbrook. Abbiamo detto 47 con 18 su 27 al tiro. 21 punti nel secondo quarto e ha spezzato sinceramente la partita in due. Da quel momento un po' sinceramente nessuno ha avuto l'impressione che Bergamo potesse invertire il trend negativo della gara. Al telefono abbiamo il general manager della formazione cittadina, Ferenc Bertocci. Ferenc, mi senti? Sì, saluto a tutti. Allora, Ferenc. Ti ritrovi un po' di quello che ho detto? Sì, sicuramente la prestazione dell'americano di Iesi è stata devastante. Io aggiungerei alla fine del terzo quarto, proprio per supportare anche quello che dicevi te, la mia squadra aveva commesso complessivamente otto falli di squadra in 30 minuti. Sicuramente è un dato negativo per una formazione che deve salvarsi e doveva per forti cose trovare energie difensive per limitare un po' le bocche di fuoco di Iesi, che notoriamente è una squadra che segna molto da tre punti e noi non siamo stati in grado di ostacolarli. L'impressione da fuori è che la squadra nel secondo quarto si sia un po' sorpresa di trovarsi un giocatore di questo genere con questa continuità di tiro in quel momento e alla fine non si è riuscita a ritrovarsi, a ritrovare certezze e questa squadra se non ha certezze difensive fa fatica poi anche dall'altra parte del campo. È un'impressione corretta? Sì, sicuramente noi siamo una squadra notoriamente che segna poco e che quindi per vincere le partite deve tenere a punteggio basso gli avversari e questo ci siamo riusciti, non dico per vincere ma sicuramente per lottare in quasi tutte le partite spesso ieri contro la formazione marchigiana purtroppo è arrivata una prestazione corale assolutamente negativa l'impatto già iniziale con la partita non dei migliori e poi sicuramente merito d'Esbrook e di scoccio Iesino però grande demerito ieri davvero nostro perché non si può avere un approccio del genere a una partita dobbiamo resettare, domani torniamo in palestra ci interrogheremo anche sui motivi per cui siamo partiti da subito male Ecco, anche perché domenica c'è una partita che definire importante è poco perché si va a Roseto, squadra che vi segue a due punti in classifica e sì, c'è un bel bottino di punti di differenza da difendere rispetto all'andata ma non penso che possa essere un discorso neanche da dire in questo caso bisogna andare a provare a fare punti troverete sicuramente un ambientino caldo ecco senza voler andare oltre però obiettivamente non è una trasferta facile vista le premesse di ieri bisognerà avere un approccio assolutamente diverso sia dal punto di vista agonistico che da tutti gli altri punti di vista Certo, Roseto sicuramente oltre a seguirci è anche l'ultima della classifica quindi è un motivo ancora in più di pressione per quanto ci riguarda è vero che all'andata disputiamo un ottimo incontro contro i loro soprattutto comunque negli ultimi minuti perché fino a 5 minuti alla fine Roseto anche qua a Bergamo era rimasta abbastanza in scia quindi oggi troveremo una formazione diversa rispetto all'andata che nonostante le continue sconfitte sta dimostrando comunque di lottare fino alla fine con tutti come a Piacenza anche domenica scorsa non dobbiamo sicuramente sottovalutare l'impegno noi però dobbiamo ripartire da noi stessi dal nostro spogliatoio dal mettersi tutti al servizio della squadra perché l'obiettivo della salvezza è troppo importante e non può non passare che attraverso un gioco di squadra e un aiuto collettivo soprattutto come dicevi giustamente te una squadra dove la difesa la fa da padrona poi però per vincere le partite sicuramente bisogna fare un punto più degli altri e ritrovare anche i giusti equilibri in attacco dove oggi con l'arrivo di Hollis sicuramente il baricentro si è spostato più verso gli stranieri rispetto a prima che impressione hai riguardo Hollis? a che punto è del suo inserimento negli schemi nel quadro tecnico della squadra? è un giocatore molto intelligente quindi da quel punto di vista direi un inserimento eccellente mi sembra anche come approccio di una persona mi è sembrato positivo sì sì molto propositivo e sta dando una mano a tutti si manca ancora un po' il ritmo partita perché diciamo il periodo l'ultimo periodo da Parese sicuramente il fatto di allenarsi a parte si fa perdere un po' quella che è come si può dire la fisicità e l'atletismo il feeling con la partita lo perdi un po' ed è quella cosa che c'hai soltanto giocando esatto quello sicuramente quello sicuramente l'impressione invece è che bisogna magari un qualcosina ancora deve essere fatto dal punto di vista tecnico visto che è cambiato l'assetto adesso giocando con spesso volentieri con tre lunghi abbiamo visto che forse rispetto alle volte precedenti non si è partiti con il terzo lungo questa volta è partito cazzolato ma forse l'assetto con i tre lunghi chiamiamoli intercambiabili è quello che dà più più sicurezza probabilmente è un fattore che riesce a giocare sicuramente con un pochino più di difficoltà ma è quello che ha più confidenza in andare a giocare vicino al canestro Sì ci stiamo interrogando un po' su tutte queste su queste dinamiche sicuramente oggi fattori che per noi era il secondo americano fino all'arrivo di Hollis è quello che magari può soffrire un po' di più la situazione ieri bene e bozzetto che si sta confermando sempre giornata dopo giornata un lungo che può stare in questa categoria sta sacrificando si sta sacrificando sicuramente un po' Sergio che magari vorrebbe qualche minuto in più però ripeto il concetto nostro in questo momento è che bisogna mettersi al servizio della squadra il coach ha la nostra massima fiducia e lui sa che può far giocare la squadra come meglio crede quindi chi gioca più o meno come è capitato ha cazzolato magari con Piacenza che veniva da un N e poi si può ritrovare anche in quintetto se il nostro allenatore reputa che per quella partita è giusto cambiare l'assetto quindi ecco confido nell'intelligenza della squadra e nella professionalità di tutti di mettersi al servizio di questa missione che è dura e difficile di portare Bergamo alla salvezza Solano secondo me ha un potenziale fisico interessante non ha ancora l'abitudine per giocare in una categoria in un campionato difficile come quello della 2 di quest'anno che tu hai più esperienza sicuramente mi sembra che sia aumentato soprattutto nella qualità degli stranieri rispetto agli anni scorsi stiamo vedendo obiettivamente coppie di stranieri di buon livello tanto è vero che pochissimi sono i Ruchi e forse uno dei pochi è proprio Solano l'impressione è che sia un giocatore ancora che punta molto sul suo attacco sul giocare uno contro uno mentre a livello difensivo fa ancora un po' fatica a recepire quelle che sono le necessità per marcare giocatori sicuramente di alto livello come quelli che gli si stanno proponendo in questa stagione sei d'accordo? La sua attitudine a seguire e migliorarsi e seguire l'allenatore c'è sicuramente giocatore molto interessante confermo quello che dicevi sulla bontà delle coppie degli stranieri ieri prima durante il riscaldamento pensare che avremmo giocato contro Green in A2 sicuramente confermava quello che appunto dicevi da studio il Jelvis è un giocatore dalle potenzialità importanti non dico per l'Italia ma anche per l'Europa io ho avuto la fortuna di lavorare a Veroli ormai anni fa con Dante Draper che ha fatto anche da vice playmaker a finali di Anolega e voglio sbilanciare secondo me Jelvis ha davvero le potenzialità per poter disputare anche campionati davvero importanti perché ha un grande atletismo fisicità quello che riesce a fare lui davvero con le mani è importante è chiaro che è giovane deve crescere però confido molto in lui e devo dire che con l'arrivo di Ollis avrà più responsabilità anche offensive vedrà di più la palla e penso che possa darci una mano importante per quello che hai potuto vedere tu in allenamento sicuramente più di quello che ho visto io è più destinato a giocare da guardia è un playmaker oppure la classica combo ma secondo me può diventare un ottimo playmaker diciamo che più regista secondo me più regista che guardia apprezzamento offensiva anche forse anche per problemi di stazza perché sicuramente il giocatore veloce ma non proprio di stazza per giocare a un certo livello per sua indole io credo perché è un giocatore che pensa molto a mettere nelle situazioni migliori i compagni anche se con noi dovrebbe giocare magari un po' più da guardia e prendersi più responsabilità anche dal perimetro lo fa sicuramente nell'uno contro uno un giocatore che è devastante a quel punto di vista come anche ha fatto ieri un'occasione un paio di schiacciate però diciamo fondamentalmente lo vedo in prospettiva più come playmaker da noi dovrebbe prendersi qualche responsabilità in più sicuramente un buon tiro da fuori però nella sua testa c'è davvero prima di tutto la soluzione migliore per la squadra quindi questo mi fa pensare che possa diventare un buon playmaker e con le mani che ha in squadre con maggiore talento potrebbe davvero diventare un fattore perfetto ricordiamo quindi l'appuntamento domenica pomeriggio alle 18 all'arena delle palme giusto non mi schiama esatto non volevo dire una stupidaggine andavo a memoria per una partita importantissima grazie Ferenz alla prossima grazie grazie a voi un saluto a tutti gli ospiti in studio torniamo parliamo del resto prima io ho detto una stupidaggine bisogna farne naturalmente a Menda perché Costa Volpino non ha perso ha vinto la prima partita in trasferta è andata a vincere in trasferta a Bernareggio purtroppo è stata considerata quasi come una mezza sconfitta in quanto le due avversarie dirette Scandiano e soprattutto Palermo si sono raggiudicate le partite casalinghe soprattutto Palermo che giocava in casa con la seconda della classe Piacenza ha fatto il colpaccio vincendo di un punto 70-69 quindi magnificando un po' quello che era stata la prima vittoria esterna della formazione allenata da Max Giubertoni invece purtroppo a due femminili è arrivata la sconfitta per la fase di governo del Vaisalbino superata 6-8-6-2 a Bolzano troppo discontinua la formazione allenata da Giuliano Stibiel con assolti e poi problemi di percentuali e obiettivamente ha segnato un pochino di più del soldo perché è arrivata almeno a 62 però questa volta non ha tenuto in difesa e alla fine rimane quello che è il tredicesimo posto a pari merito con altre squadre e soprattutto a questo punto diventa fondamentale l'appuntamento di sabato prossimo in casa contro Pordenone che è una squadra satellite giovanile da Narei a Venezia per cercare di strappare due punti primo a una concorrente diretta portarsi sul 2-0 sempre con le pordenonesi e cercare di continuare quello che è un po' il percorso positivo delle ultime gare interne ricordiamo ha battuto nelle ultime esibizioni prima Vicenza poi Crema e obiettivamente ha fatto un passo indietro ma soprattutto per il valore delle avversarie nell'ultima uscita contro Costa Masnaga questo per quanto riguarda i campionati nazionali lo chiamo un po' mezzo nazionale quello che è la C Gold maschile perché abbiamo cambiato nome ma la sostanza alla fine è rimasta la Serie C Romano è riuscito ad andare a vincere come era obbligatorio perché non poteva essere diversamente in quella di Manerbio ha faticato un po' nel primo tempo poi nel secondo tempo è andata in scioltezza mancava lo squalificato Carrera che comunque rientra per la prossima giornata prossima giornata che è assolutamente fondamentale mancano due soli turni al termine della prima fase della C Gold ricordiamo due fasi fatte perché il campionato è stato fatto con due gironi da 13 quindi con una regola sezione normale sarebbe finito un po' troppo alla svelta e quindi sabato sera alle 21 al Palatreviglio arriva Iseo dove Romanovi ha vinto in trasferta è in piena lotta soprattutto canestro Milano e Gardone per quello che è l'ottava piazza playoff ricordiamo purtroppo che con la gardonese è sotto 2-0 mentre con Milano è 1-1 ma con la differenza canestre a favore quindi importantissimo quelli che saranno gli ultimi due appuntamenti di questa regular season per la formazione allenata da Maioli e Paris ricordiamo sabato sera con Iseo e l'ultima in trasferta con una Sanse Basket che invece ha già abbandonato qualsiasi bellità di post-season chiudiamo così anche la seconda parte della nostra trasmissione e diamo quindi la linea alla regia per la seconda pausa pubblicitaria torniamo in studio per la terza parte della nostra trasmissione e abbiamo il secondo ospite telefonico ed è Fabrizio Longano da poche settimane allenatore delle giovanili della bluorobica Bergamo Fabrizio mi senti? ciao Germano buonasera a tutti allora abbiamo detto eri nel tuo eremo di sofferenza sarda in quel di Alghero giusto? beh sofferenza mi sembra esagerata esatto mi sembra quel filo ero sicuramente in terra sarda ho fatto l'ironia era assolutamente voluta la citazione e ti ritroviamo dopo l'esperienza di Celsior dell'anno scorso positiva con la vittoria al titolo regionale Under 18 se non ricordo male giusto? sì giusto e riparti con bluorobica con due gruppi possiamo dire abbastanza differenti l'Under 15 e l'Under 14 un Under 15 che paga un po' quello che è un'annata a livello provinciale non particolarmente qualitativa mi consenti questo aggettivo mentre sull'Under 14 secondo me ci sono delle cose da poter degli elementi da poter sviluppare sicuramente le differenze che hai colto e che in questo mese sto cercando di notare anch'io mi ci posso ritrovare però concedimi che tutti e due i gruppi sono composti da ragazzi che hanno veramente tanta voglia di fare quindi quello è un buon punto di partenza Tornato con le giovanili a Bergamo avevi fatto le giovanili diciamo tra virgolette regionali sei tornato con le giovanili d'eccellenza non penso che hai trovato tanta differenza rispetto all'ultima volta che le hai fatte No onestamente no Qual è secondo te un po' il limite che stai vedendo nella palacanestro giovanile Bergamasca e anche regionale Per quanto riguarda l'attività bluorobica che in passato contava sul reclutamento un po' più ampio perché sicuramente tu nel tempo avrai notato che col crescere delle zone come Brescia o Cremona il reclutamento è andato assottigliandosi quindi sicuramente il raggio di azione è diminuito e questa è la prima cosa che sicuramente fa balta all'occhio ecco è un primo dato oggettivo sì la seconda l'altra considerazione che si può fare a livello tecnico e qua ovviamente poi può incidere sia la prima considerazione di quella del reclutamento che a volte anche i regolamenti soprattutto in questo anno sono cambiati e che quindi non aiutano magari nell'attività giovanile l'insegnamento di alcuni fondamentali da un altro punto di vista però un'altra osservazione che mi viene abbastanza così spontanea da fare è che si sta accentuando un po' la tendenza dalla parte delle società a guardare più al risultato di squadra senza guardando mettendo in un sottordine quello che lo sviluppo del giocatore per non pronto possiamo dire perché inutile che stiamo a nasconderci il giocatore lungo giovane ha bisogno e abbiamo qui un esempio che è Jacopo Borra quando è in categoria così bassa ad esempio anni under 13 under 14 under 15 non può essere un fattore anzi tante volte è addirittura un tra virgolette peso e cerchiamo di interpretare bene quello che sto dicendo peso nel senso di dire che non è ancora così abituato a giocare come si dice il piccolo sveglio gli va a portare via la palla dalle mani lui non ha il lungo io mi ricordo Jacopo quando giocava ancora nella prima finale nazionale che gli ho visto fare con Moncalieri non era sicuramente un fattore assolutamente però ha avuto anche gli allenatori e le società che hanno capito che bisognava anche se in quel momento non era sicuramente un elemento da differenza che bisognava puntare su questo tipo di giocatore perché il futuro era lì questo non me ne vogliono non era sicuramente negli altri 5-6 piccoli che c'erano a Moncalieri mi ricordo alti un metro e mezzo poco più che avrebbero avuto sicuramente molta più difficoltà per poter arrivare a un certo livello questo però mi sembra che in buona parte delle società lombarde non sia ancora come si può dire un ragionamento abbastanza sedimentato volevo convoggere Luca perché ad esempio una delle società che io ritengo più all'avanguardia e più lungimiranti da questo punto è una società dove tu hai giocato che a Leggio Emilia che secondo me ha sempre fatto giocare ha puntato sempre molto di più sullo sviluppo del giocatore ha scapito molto spesso di quello che poteva essere il risultato del momento tanto è vero che però a Leggio Emilia secondo me è anche la società che ha prodotto più giocatori dalla serie B in su di tutte le altre messe soprattutto negli anni in cui c'ero io allora fatto di necessità una loro forza quindi investimenti sicuramente ridotti perché si investi sui giovani spendi un po' meno che a prendere i giocatori già fatti però sono stati sicuramente bravi ad avere la pazienza di far crescere determinati giocatori di metterli in mano ad allenatori che avevano la stessa visione della società e quindi gli viene tutto più facile è un problema quando perché allenatori che vogliono far crescere i giocatori ce ne sono tanti ce ne sono anche altri che vogliono solo vincere però se tu dai in mano un giocatore futuribile a un allenatore solo un pazzo ti direbbe no dobbiamo vincere non mi interessa creare un giocatore di serie A perché è un risultato personale lì devi avere devono coincidere le due visioni e sicuramente bisogna avere tanta tanta pazienza Fabrizio ti volevo ricominvolgere ancora sono d'accordo sono d'accordo con Luca soprattutto quando si parla di pazienza e qui mi permetto di dire che la pazienza nell'allenatore c'è perché le 3, 4, 5 volte 6 che vai in palestra con il ragazzo ne devi avere se no hai già sbagliato luogo la pazienza deve essere nei dirigenti e la devono riuscire a trasmettere e a far comprendere anche poi a chi è sugli spalti e ai genitori che poi devono assecondare questo percorso che a volte non è facile anche extra campo perché poi dopo il lavoro che si fa in campo non deve essere non assecondato dai punti di riferimento fuori dal campo che sono importantissimi qua mi riferisco ai dirigenti sì anche perché spesso e volentieri non si capisce che soprattutto all'età più piccole i tempi di sviluppo e di percezione di quella che è la differenza in campo sono assolutamente diversi un lungo ha dei tempi di maturazione assolutamente diversi giusto Jacopo? giusto l'hai vissuto sulla tua pelle io sono oggi al 60% quindi comunque lo ricordiamo che lo stesso anche quando sei arrivato in fortitudo sei diventato un giocatore in fortitudo anche perché hanno avuto come si può dire la pazienza di costruirti fisicamente non eri sicuramente quello che sei adesso mi ricordo quando sei arrivato in fortitudo non eri sicuramente eri molto alto quello sì sicuramente 1,8 per 80 kg si andava bene però non eri sicuramente però hanno avuto la pazienza di farti lavorare di avere pazienza di farti giocare e questo secondo me è una lungimiranza che troppo spesso viene dimenticata e dopo ci si lamenta perché soprattutto scusatemi adesso per una parentesi che va fuori da noi dopo ci lamentiamo perché i lunghi italiani non giocano non sono pronti eccetera non abbiamo nemmeno la minima speranza la pazienza per cercare di costruirli è un po' difficile secondo me poi avere tutto come si suol dire Napoli la botte piena la moglie ubriaca è un po' difficile riuscire a fare questa cosa Fabrizio volevo tornare invece su quello che è un argomento che sarà un po' di discussione nei prossimi mesi campionati elite sì o campionati elite no? bella bella domanda sicuramente campionati elite per quanto mi riguarda come come esperienza sì perché comunque alzano il livello di competizione alcune squadre che magari avrebbero troppo vita facile nei campionati regionali non riuscirebbero magari a fare un lavoro su dei giocatori che poi magari l'anno dopo potrebbero fare o provare anche l'eccellenza o la stessa squadra se dovesse essere un gruppo numeroso con della qualità numerosa intendevo e quindi perché perché no non vedo questo questa preclusione però adesso io faccio un po' sì l'avvocato del diavolo il fatto di aver restaurato i campionati elite ha portato anche a tanta dispersione di giocatori è vero in cui ci troviamo magari squadre elite con uno o due giocatori interessanti e il resto magari giocatori di mediocre valore adesso non voglio andare a sminuire tutto quando invece forse sarebbe più auspicabile una maggiore concentrazione di giocatori in alcune realtà che possono poi giocare e garantire anche un certo tipo di lavoro sia tecnico che fisico per poter arrivare a un certo livello così mi sembra l'impressione che ci avviva in questi anni che i campionati elite spesso e volentieri fossero fatti più per gli allenatori che non per i per i giocatori non ti nego che questo può capitare Germano è anche vero guardando l'altro l'altro aspetto invece che in alcuni casi alcuni campionati elite hanno permesso con con quella pazienza di cui facevamo riferimento prima di crescere magari dei giocatori che nell'eccellenza magari introdotti in un gruppo di eccellenza avrebbero fatto più fatica e non avrebbero trovato quello stimolo quella motivazione magari avrebbero abbandonato sarebbero tornati indietro perdendo magari quell'anno lì sono d'accordo con te faccio un esempio di un ragazzo che conosciamo di Bergamo Claudio Gotti quando andò a fare l'Under 16 elite all'eccellusore poi fatto quella buona stagione divenne un punto di forza dei campionati d'eccellenza è vero ricordo giusto? ricordo ricordo è vero Luca invece? Nella formula di adesso non mi fa impazzire ma la penso come te dispersione dei ragazzi ma anche perché lì secondo me subentra il campanilismo delle società che non hanno interesse a creare il ragazzo senza capire che se un tuo ragazzo diventa un giocatore è solo pubblicità per te anche se lo diventano un'altra squadra è partito comunque da te per come adesso vedo io faccio il provinciale con i miei e giriamo comunque già tutta la Lombardia e trovi squadracce che non hanno senso ma come come se ne possono trovare in elite se se fatte in una certa maniera in una certa maniera cioè vari sicuramente rivisitata invece per quanto riguarda l'esperienza che hai fatto una prima volta che ripeterete se non ho sbaglio a Costa Volpino del CRL Lab allora purtroppo con l'esperienza ancora non sono riuscito a farla perché è arrivato da poco tempo non sono riuscito proprio con i tempi a partecipare quindi appena avrò occasione sarò meglio argomentare questa risposta quindi tendenzialmente però ti sembra un esperimento interessante mi sembra sulla carta una sì un'idea interessante l'unica cosa che sto notando è che sono tanti gli impegni tra selezioni Lab vengono coinvolti spesso che può essere una cosa positiva sicuramente poi ci sta tutta la gestione della settimana dei ragazzi che non è poi facile tra campionati su annate a volte che possono fare anche doppi impegni quindi non so i 14 che lo giocano con i 15 più allenamenti la selezione più l'Hub insomma diventa interessante impegnativo e quindi ha bisogno di una di un monitoraggio e di una preparazione della settimana attenta va bene grazie Fabrizio ci sentiamo tra qualche settimana per fare un aggiornamento un po' della situazione grazie a te grazie a tutti un saluto buona serata torniamo in studio Luca negli ultimi anni dalla tua squadra sono sempre usciti i giocatori che sono andati in categoria superiore mi vengono in mente gli ultimi due Macchi che è andato a Romano Gabriele Stucchi che è andato ad Almine adesso ti faccio fare come al solito ti metto in difficoltà chi è il prossimo ma stiamo lavorando beh quest'anno sono molto giovani i ragazzi abbiamo Erba che sta facendo bene ha avuto un momento di spago però mi sembra che sia tornato a pieno titolo abbiamo Badoni che è interessante abbiamo Pirrone il nostro playmaker che è un 99 che fa poco canestro ma ha una visione di gioco che è sicuramente da categorie superiori nel momento in cui Erba è rimasto fuori è esploso Grioni bene o male qualcuno qualcosa ancora da venire a vedere di cigacet interessante potrebbe esserci poi dipende sempre dai ragazzi perché se vengono in palestra a timbrare il cartellino non si porta a casa niente ma loro se invece vengono con la voglia comunque annuncio per tutti sapete dove andare a vedere se volete trovare qualcosa per l'anno prossimo siamo in chiusura della trasmissione grazie a Jacopo grazie a Luca un bocca al lupo contiamo di vederti in campo nei tempi previsti questa volta grazie a Luca proseguo la stagione poi ci vedremo ancora per vedere un po' di valutare come stanno andando le cose verso la fine il ringraziamento più grosso per mettere di vivere a voi che ci avete seguito la casa l'appuntamento è come al solito la settimana prossima la raccomandazione è sempre la stessa seguite le nostre squadre soprattutto sui campi ne vale sempre la pena grazie e arrivederci